Top 5 Plays of the Week Top 5 Plays of the Week Top 5 Plays of the Week Anche un po' di fortuna Con un punto anche un po' di fortuna Però una tripla collateral è sempre una tripla collateral Grazie all'impulso visivo li vede Decide di punirli così Poi cicca al quarto Perché ucciso da una granata Terzo posto, più che meritato Passiamo adesso alla seconda posizione Dove troviamo Devil Muffy Che sta giocando con l'MR6 Su dominio veterano E ci fa una strage Da capogiro davvero ragazzi Ha fatto qualcosa di assurdo In poche parole ha fatto un'uccisione a catena Da 14 persone con la pistola Boh davvero quando l'ho vista Mi sono davvero stupido Ho detto porca puttana Quanti ne sta ammazzando Qua tipo fa una La fa Yvonne per due Cioè Immortale Ha fatto una strage fantastica E poi la conclude appunto così Secondo posto Meritatissimo Ma passiamo adesso alla prima posizione Dove troviamo qualcosa di Fuori dal mondo Troviamo infatti HC1419 Che con il locus Salda tutto Boom Tripla headshot collateral Cioè Fortunato Ok Ma tripla headshot collateral Non ne ho davvero viste molte Qua su Black Ops 3 E potete godervela qua Molto pulita Stupendo ragazzi Davvero Complimenti per il primo posto Ragazzi Io spero che la top Vi sia piaciuta Se è così Vi invito a lasciare un bel mi piace Un commento E a mandarmi Tante tante altre clips Trovate negli ultimi video Alla fine La spiegazione Se non sto qua a spiegarlo Ogni video Se no davvero Non finiamo più Vi invito anche a passare Da tutti i links Che trovate in descrizione Come Facebook Instagram E profilo privato E via così Noi ci troviamo domani Con un nuovo video Per oggi da Merino è tutto E Bella